Ciao amici di quellochecapita.com, oggi ci troviamo a Tribano per il festival di San Martino e qui con noi e Megahertz per concederci un'intervista. Perché è il soprannome Megahertz? Come dice Pezzali, mi cito una frase, no? Ai synth e alla programmazione, non un nome, non un cognome, non un soprannome, ma un'unità di misura. Megahertz! È stata una delle presentazioni di tutti i tour più belle che mi hanno fatto, secondo me, un po' più ironica, ma piena di fondamenti anche. Megahertz, grazie all'idea mia e di un mio amico DJ, che è Fernando Monfeli, chiacchierando con lui una sera, Megahertz è venuto fuori. E mi è piaciuto perché subito, quando ho iniziato a suonare, ho visto che la gente se lo ricordava, no? E poi perché era un'unità di misura, della frequenza, quindi cose, cioè gli oscillatori, queste cose con cui ho a che fare tutti i giorni, quindi Megahertz mi è sembrato anche simpatico. Recentemente ho rivisto, mi è capitato di girare canale, ho trovato su MTV Days un vostro concerto, degli ultimi in cui vi siete eseguiti. Di Max. Esatto. E ho visto, ho visto sto particolare che tu avevi durante hanno ucciso l'homoragno, sta maschera qua. E già quando sono venuto comunque con Samuele a vedere il concerto avevo notato che eri un po' strano, un po'... Come mai tutta stava in artistica solo? Ma quello è un po', prendersi anche non sul serio, la cosa che mi piace fare sullo valgo, giocare anche con la musica, con le frequenze, con quello che sto facendo. Quindi scherzando in tour con la produzione hanno visto che mi prestavo anche a cose, cioè una scena molto bella durante il tour, su un brano che si chiama quello che comunemente noi chiamiamo amore, ho alla fine del brano, la metà brano, ho un palloncino con un cuore molto bello che alla fine vola. E mi piace scherzare, giocare su un palco poi, perché comunque l'altra parte è il duro lavoro prima, la produzione, le cose, quindi potersi divertire è una cosa bella. Sono un musicista produttore di musica diciamo elettronica ma anche non. Diciamo mi piace la contaminazione tra i generi e molto anche nel pop. Attualmente ho prodotto un disco con la mia band che si chiama Versus per l'etichetta mescal. Il disco si chiama Retroattivo ed è in tutti i negozi dall'8 marzo. Ed è un disco di musica diciamo vintage pop, potrò chiamarla cantata in modo confidenziale. In questo gruppo io scrivo i testi, ho prodotto il disco e suono basso e canto. A differenza del progetto Megalers che invece è nato suonando in discoteca nel 2003, credo. Quindi facendo live in discoteca quando non era neanche di moda questa cosa, anzi era quasi una novità. Finché nel 2004 ho pubblicato il mio primo album da solista che si chiama Estetica. L'argomento produzioni secondo me in questo momento della mia vita è una strada che sto percorrendo investendoci molto tempo, denaro, tutto me stesso per delle produzioni secondo me giovani, di gruppi giovani, emergenti, senza contratto, che hanno a mio parere, hanno dei brani molto forti. Li stiamo producendo e ho un'idea di cui ancora è un po' precoce parlarne, per dare modo a questi brani, quindi applicare la meritocrazia in Italia. Di questi giovani musicisti che secondo me stanno scegliendo la strada vera di suonare, non di proporsi a talent show o qualcosa del genere, ma di investire non sulle facce ma sulle canzoni. Le facce sbiadiscono un po' le canzoni. Il tour di Max è stata un'esperienza molto positiva, sia dal punto di vista professionale, ovvero di produzione proprio molto grossa e molto professionale a livello tecnico e c'è stata anche una bella parte umana con Max e con la band, la band dei quali tre persone, io ho già lavorato con queste tre persone, ovvero Sergio Carnevale del Blue Vertigo e Giorgio Mastrocola, degli ex La Sintesi, ora è un chitarrista di Lele Battista. Poi ho conosciuto Ernesto Gezzi, che non conoscevo, e Matteo Lavagna al basso e Sergio Maggione alla chitarra. Ci siamo amalgamati molto bene subito, non in modo serioso, ma in modo anche giocoso, lavorando solo, imparandosi una scaletta comunque di venti e passabrani. Anche con Max è stata molto spontanea la cosa. Mi piace il mondo molto, il modo in cui sente la musica ed è predisposto a sperimentare oggi delle canzoni degli anni Ottanta, per esempio. Io ho anche proposto delle versioni un po' remix, tra virgolette, per esempio l'uomo ragno e altre cose e lui è molto propenso ad ascoltare cose delle strade moderne, ha un'ottica molto aperta della musica. E poi, umanamente, ci siamo trovati, è proprio stata una bella esperienza. Adesso sono contento che continua anche l'estivo. Tutte e Hit, quindi un caso rarissimo, lui canta tutte e Hit che tutti conoscono, cioè ne sono nel nazionale popolare ormai, in una versione moderna oggi, quindi anche Dance Floor è una cosa che mi è piaciuta. Un saluto e anche un brindisi a QuelloCheCapita.com da Megare. Ci si vede questa strada. Grazie a tutti.